Ciao a tutti ragazzi da Corazionto9, bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video. Sono qui con l'aggiornamento delle carte da scambio, in primo piano Claudio e Marchisio, ma adesso andiamo avanti con tutte le carte appunto. Troviamo Duvan Zapata, Paletta, Greco, Bellusci, Niccolopez, Guarente, Sestu, Padova, parte del Caleri, parte del Chievo, tre giocatori del Palermo, poi Kurtic, Emerson, tre giocatori del Padova, tre giocatori della Tina, Bendusco, detti prima della Samandoria e poi della Sverona, poi una parte del Verona, poi, scusate era storto, Laribi, Cassano, tre giocatori del Padova, Guarente, Greco, poi troviamo la squadra Roma, poi Icardi, poi Roma Primavera, scusate, tre giocatori del Cittadella, poi troviamo Tecnico, la squadra Primavera della Latina, poi troviamo parte dell'Atalanta, Topolino Gol, Cagliari, poi troviamo Ertò, 3 giocatori della Spezia, parte del Catania, Zambrotta, Campagnaro, Petkovic, parte del Napoli, Cavanda, poi parte del Torino, 3 giocatori del Bari, parte del Torino, squadre femminili, Tecnico e scuola primavera del Carpi, poi troviamo Avelar, Gonzales, scuola primavera del Chievo, Llorente, Lazio parte, un'altra parte del Lazio, poi troviamo parte del Milan, poi troviamo Giampiero Ventura, Paolo Bianco, Farnerud, Rigoni, Luca, Barrientos, Polito, Polito, V, la R2 degli arbitri, poi 3 giocatori di Juve e Stabia, 3 giocatori del Brescia, Vucinic, la squadra Palermo, Felipe, Castro, Perez, Moretti, parte della Roma, Agazzi, 3 giocatori del Siena, poi Tecnico e scuola primavera del Juve e Stabia, 3 giocatori del Trapani, Tecnico e scuola primavera del Reggino, bellissimi due scudetti con la Team Cup, bellissima, primavera ovviamente, questo è la squadra del campionato primavera, sì, poi troviamo una parte del Verona, Darmian, De Cagno, parte della Fiorentina, Terro Derby, Com, Cremonese, Tecnico e scuola primavera dell'Empoli, Echdal, poi Carrizo, parte del Genoa, parte del Cagliari, 4 scudetti di Lega Pro, bellissimi, poi parte della Fiorentina, Bianchetti, Titta, Ider, De Cagno ancora, Tony dei Derby, Tzolek, Brivio, Bianchi, Fiorillo, Benatia, che sta facendo molto bene, Pinzi, Tavaniaco Torres femminili, Spogli e Volpolicella Verona femminili, ragazzi, e forse sì, c'era anche, scusate, questo fortissimo nella realtà, David Pisarro. Bene, quindi, questo era l'aggiornamento, ragazzi, della carta che scambio, un bel mi piace, mi raccomando, iscrivetevi e commentate, noi ci vediamo in un prossimo video e se volete qualche carta, basta commentare. Ciao ciao!